Ciao, creatura! Io sono Ecatee Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Gulae E.S.M.A. Questa sera ti propongo un roleplay tra sorelle. Io sarò la tua sorella maggiore. Buona visione! E' arrivato il pacco Amazon! E' arrivato il pacco Amazon! Yeah! Finalmente! Stavo aspettando! Shhh! Il mio pacco Amazon! Giù le zampe, mia, questa! Intanto, apposto al tono che è tardi, svegliamo i genitori. Ti ricordi quel giorno che stavo guardando in internet cercando una crema idratante perché ho la pene secchissima, specialmente in inverno? Sì, io sono il contrario degli altri come tu pensai. Gli altri ce l'hanno in estate o in inverno perché vabbè sono sempre bastian contraria. Ma perché lo sai che in estate c'è caldo quindi ho più, tra virgolette, voglia di bere anche se io mi dimentico di bere ma dettagli. E niente, alla fine, in inverno bevo pochissimo, mi devo sforzare tantissimo e devo proprio sforzarmi. Esatto. E quindi, niente, alla fine, stavo guardando quella, 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 quella con mio computer che tu non puoi toccare minimamente, ovviamente. No. E giù le zampe dalla mia crema. Sì, alla fine non sapevo cosa comprare e non ho comprato nulla. E questa, e questa, e questa. Su Instagram, magicamente, mi è comparsa adizia, che era quella delle creme imi, ma ti ricordi che avevo fatto, che le avevo provate tempo fa. Non le ho più usate, perché io non sono una persona che si dimentica di fare le cose. Ma, viciramente, THD, vabbè, non abbiamo ancora la diagnosi ufficiale, quindi non diciamo nulla, vada. Stabonata si infia, che parlo io. E niente, avevo quel, quel contorno occhi che ricomincerò ad usare, anche la visiero e tutto così così. Però, già che c'ero, mi ha chiesto una, di provare, insomma, una collaborazione, di provare. Collaborazione, smettila di prendermi in giro, guarda che, pure tu c'hai la zeta, ma usci qua, nel nostro paese c'erano tutti. E vabbè, non strumento di parlare. Allora, ti faccio vedere il messaggio, cioè, ti faccio vedere, ti leggo il messaggio, perché tu le mani nel mio Instagram non ce lo metti. Allora, aspetta. Già, ho i messaggi direct, tutti incasinati. Senti, ma si può a quest'ora fare sto casino? Che cacchio stanno facendo? Vabbè. No, vi ricordo che è notte fonda. Sì, noi dovremmo dormire, ma dettagli. Allora. Allora, allora. Eccolo qua. Mi ha chiesto, tipo, aspetta, dove, dove? Volevo mandarmi, volevo mandarmi, ovviamente quello che voleva mandarmi non lo volevo. Crema, schiarente, macchie, viso, corpo, crema, antimacchia, viso, 50 ml, crema, corpo, per la pelle opaca, 50 ml, skin care, kit, antimacchia, idratante, illumina, donna, uomo. Eh, sì. Sì, riesco a leggere anche senza occhiali, vi sto sforzando tantissimo, dovresti apprezzarlo. E mi ha scritto, ciao caro, perché è tradotto in inglese male, da Google traduttore, ovviamente. Recentemente abbiamo lanciato un nuovo kit spiancante antimacchie, kit correttore macchie scure per viso e corpo, contiene un flacone di lozione per il corpo e un flacone di crema per il viso. Stasi un attimo, se andrei a parlarmi. Ok, allora, non contiene prodotti di viso animale, non ci interessa perché io risposto. Io, ovviamente, perché sono un'influencer onesta. No, beh, è così. E vabbè, o mi faccio sfuggire le collaborazioni, no, perché, cioè, se io, onestamente, quel prodotto a me non serve perché devo pubblicizzarlo, cioè, devo mostrarlo, non ha alcun senso. E ho scritto, no, no, ma che quel prodotto non mi serve, quindi non ha alcun senso che io lo vada a provare in un video perché cosa provo? E' come se uno senza capelli provasse uno shampoo in un video, cioè, come puoi essere onesto nel dare una tua idea di, cioè, come fai ad essere onesto a dire se un prodotto funziona o meno o per te, anche se è una cosa soggettiva, però se non hai capelli, cioè, capisci al senso se io non ho le macchie o perlomeno mi pare di non averne, dopo non so, così sono struccata. Infatti voglio cagare, grazie, anche sorella, fantastico. E mi ha scritto che rispetto ai tuoi pensieri vi auguro tutto al meglio e io ho fatto però, però, e io ho fatto però, se hai altri prodotti che vanno bene per la mia pelle io posso usarli? Eh, perché dici che mi faccio sfuggire le collaborazioni? Eh no, però, eh, eh, allora lei mi propone crema, acne, che non ho acne, si è roviso, acne, brufoli, acne, punti neri, punti neri, li ho, cicatrici, acne, pelle, grassa, kit, antimacchia, ecco sto, antimacchia, fa tutto praticamente. E dopo però mi presenta anche un bellissimo kit che si chiama, abbiamo anche il kit lumaca e il kit acne che puoi consultare tramite il link, se ti piace qualche prodotto contattami. E io li ho visti entrambi e ho detto, vorrei provare il kit lumaca, anche perché mi faceva ridere che era kit lumaca. E allora mi ha chiesto, è sempre lo stesso l'indirizzo? Io ho fatto sì. E poi mi ha mandato anche un fantastico codice sconto del 20% per i miei followers, se vogliono utilizzarlo, e mi ha scritto, ti invierò il kit per le lumache oggi. E io, come per le lumache? Ops, cosa mi fa? Invece no, era tradotto, ma a fare il kit per le lumache, si prega di avvisarmi tempestivamente, l'ho ricevuto oggi, quindi l'ho appena ricevuto. Adesso lo vediamo insieme. Quindi per il set lumaca c'è questo codice sconto, se ti interessa. Crema viso, bava di lumaca, 50 ml, siero, bava di lumaca, 30 ml, i miei skin care kit, composto da crema viso, antirughe e siero viso, antirughe idratante e antimacchia. Vabbè, alla fine antimacchia ce l'hanno ficato in ogni prodotto. Per viso, collo e decoltè, donna uomo. Ottimo. Vuoi che andiamo a vedere cosa ci dice? Ah, eccolo qua, dice che è senza aprire direttamente dal link di Amazon, nell'anteprima. È un set con bava di lumaca, composto da Deep Repair Snail Face Serum. Vabbè, quello l'abbiamo capito. Il filtrato concentrato di secrezione di lumaca. No, ma non so se mi va più a chiusare. Sto scherzando. Offre una spinta di idratazione e aiuta a riparare la pelle, favorendo la crescita del collagene naturale, del elastino rassato alla pelle. E' wow, ma io lo voglio adesso. E adesso lo proviamo. Cioè, scusami, scusami se ti è illusa. Lo provo e tu mi guardi. No, ha poche storie. Shhh, vai piano. Dopo mi metto a pigiama, dai, non rompere. Allora, vediamo com'è il nostro snail. Snail Secretion Filtrate Fisket. Senti, in inglese qualche anno rompe. Sì, sono speciali, sono così. Accettami per ciò che sono. Allora, pigiama. Intanto, come ci ha insegnato la nostra best friend Elena, c'è il sigillo. Perché su Amazon a volte le tippe aprono i prodotti, li provano. Ecco, perché quando mi ho detto questa, mi raccomando, quando ci sono le creme, guardate sempre che ci sia il sigillo. Qua c'è il sigillo della scatolina, però effettivamente, volendo, si poteva aprire così. Andiamo a vedere dentro. Mi darebbe alquanto fastidio se fosse stato già provato da qualcun altro, soprattutto la crema, perché ci buccano dentro le dita. Non è proprio così genico la cosa c'è qui dentro. Beh, intanto, lo sai che io addobbo il packaging di Mim e Hank, perché sono neri, ovvio. Se fossero stati verdi e neri sarebbero stato, per me, top, top. Però se non va bene anche giallo, dai, va bene, dai, per questa volta. E, sì, dai, forse sono più estetica con questo giallino, tipo oro. E poi, queste, allora, tu sai che io faccio veramente tanta, tanta fatica a mettermi qualcosa che è profumato in faccia. Soprattutto le creme, creme visio, faccio fatica perché spesso sono super profumate e piccicose. E mi sento tutto, me le metterei, poi mi verrebbe voglia di lavorare, mi la faccio subito. Non va bene. E quindi, queste Mim mi piacciono, perché appunto stavo cercando una crema santa odore. E non tanto così. Anche se forse crema di pava di lumacca potrebbe essere appiccicoso. Vediamo. Però se non ha odore, non mi dà fastidio. Soprattutto l'odore è forte, che hanno, che è profumo. In realtà sono profumate. Però in faccia faccio fatica. C'è della pagliuzza nera. Guarda. Che bel suono. Bellissimo questo suono. Mi sono ipnotizzata da sola. Stai zitta. E quindi, che c'è? Ho freddo, mi sono messa la filpa sopra il maglione in pappini. Dopo un metà pigiama. Ma che perché c'era questo pigiama? Vabbè, dai. Allora, dentro c'è il... Il siero di Preper Nails Face Serum. Sicuramente non ho pronunciato male. Ma chissà ne frega. Ah, non ci vedo un cacchio. Revitalizzante e per rendere... Sto traducendo, eh. Per rendere la pelle più luminosa. E protegge contro le... Inviro mental. Cos'è? Tipo qualcosa? Le aggressioni di qualcosa? Non lo so. Non lo so. C'è in italiano? Ovviamente no. Beh, c'è il siero e poi c'è... Altra pagliuzza. Wow, c'è un sacco di questa pagliuzza che riutilizzerò sicuramente per qualche creazione gotica. E poi c'è la crema che sicuramente va prima il siero. Poi la crema accolta. Adesso appunto lo provo anche se è prima di andare a letto. Chissà ne frega. Non c'è scritto se è pappusa da prima o dopo. Cioè mattina, sera. Va bene quello. Con la penna riesco una mani inutile. Capite? Vabbè, attualmente sono sprovvista di unghie. Ok. Unghie lunghe. Ma le sto facendo ricrescere. È stata quella fantastica settimana in cui non riuscivo ad respirare e stavo morendo. Che ho deciso di... Un ultimo gesto. Da rovinare tutte le mie unghie per l'agitazione della morte. Allora, qui abbiamo... Ciò, anche io non faccio topic. Il siero. Bava di lumera che... Andiamo subito... C'è anche una... C'è anche dei pezzi di carta con delle informazioni. Ma come al solito io e te non leggiamo mai e annullo di tutto ciò. Andiamo subito a testare il siero. Guardi qua che suono suave. Ma tassi. Ma tassi, tassi. Eccolo qua. È tutto... Oddio, non so se lo vedo. Aspetta. È baffuso. È baffuso. Guarda. Non so se si vede ma è molto baffuso. Ok. Quindi non puoi dire che sia la stessa cosa del... Di quello con torno occhi. Il packaging è uguale ma dentro c'è una cosa baffusa. La baffa di lumera. Non fa senso. Mettiamo poco perché mi fa senso. Non so se si vede. La baffosità di questo si è... Guarda, guarda. È un po' slimoso. Ah, è molto unto. No, devo metterne di più. Ho uniso troppo poco. Sembra slime. Sì, con le cuffie non è un massimo. Aspetta. Ah, che bello. Non ho durato nulla. Devo però rimettermi le cuffie perché non sento cosa sto facendo di suono. Da un po' di lunghi ce l'hai. E allora la mia pelle è talmente secca che ha risucchiato subito tutto il siero. Risucchiato. Allora, vediamo. Ah, è chiuso da Dio. Proprio perché... Ah, l'uscivo da prima. Durissimo da prima. Ah, vedi. Vediamo un po'. Ah, il sigillo. Sigillo, sei il potere. Oddio. È tutto. È tutto filamentoso. Guarda. Ed è tutto da un... Sembra colla vinilica. Non ha alcun odore. Ci piace questa cosa. Solo che è tutto... È da un lato. Aspetta. È bella compatta, è bella densa. È tutto filamentoso. Forse l'ho messa troppo. Forse l'ho messa troppo. Non è un po' di... Non è un po' di due, però... Non lo so. Aspetta. Sotto i cappi. Aiuto. Aiuto. Cioè, allora Non è appiccicoso Sulla pelle È solo un po' slimosoli Pensavo di averne messo troppo Invece la mia pelle è talmente secca Che lo ha assorbito subito Vedremo nei prossimi giorni Comunque, casomai Digernerò Dai, no non lo puoi usare No, non lo puoi usare Mentira di cercare di rubare le mie creme Infatti da una collaborazione Oppure Compratelo, chiedi a mamma Se te le compra, c'è il codice sconto Del 20% No, dai Non li puoi usare, seriamente Allora Dovrei farmi anche Uno scrub perché Mi sta venendo via la pelle, letteralmente Cioè, sto, tipo Cambiando pelle come i serpenti Sono un animale a sangue freddo, ok? E così, insomma Vabbè A me piace La vicina che sta facendo un casino Io penso che andrò su a sbattere Perché adesso dobbiamo dormire Cioè, non ti pare di fare sto casino Ha smesso Vabbè E comunque Adesso la provo Poi dopo Ti dirò come mi trovo Comunque Ha un odore Un odore impercettibile Il siero Ancora meno Percettibile Dell'odore Della crema Quindi mi va bene Perché ho le mie pippe, ok? Va bene E niente Boh Voglio Adesso lo userò Sì, ma ricomincio anche a usare Mi ricorda Però tu per favore Al mattino Che mi Prima di uscire Non ho ancora fatto la collazione Per dirti Perché l'ho dimenticata Di ricominciare a mettermi Quei occhi Guarda Sono già più luminosa Ma cosa è successo? Guarda No, scherzo Forse sì Però Non lo so Comunque Mi farò anche uno scrub Perché davvero Anche mettendo Il fondotinta Vedo che c'è Qualcosa Cioè Boh Non lo so Eppure mi faccio una bella Cioè Quando mi tolgo il trucco Me lo tolgo bene In teoria Però mi devo fare anche Appunto Una bella pulizia del viso Un bello scrub Più che altro Sì Ne sento proprio la necessità Così Magari queste Creme Potranno penetrare Nella mia Faccia Molto Meglio Sono tutto male Lo so Scorbo a tu che sei malizioso Mi fa male Va bene Sono l'ergi con gli occhiali Adesso li lavo Vabbè Adesso Li lavo Per domani mattina Comunque C'è un sonno Lo vedi Adesso andiamo a letto Mi Mi metto il pigiamo Andiamo a letto Questa Ha la pava di lumacca Non lo farò Non dirò la mamma Se no se la frega lei È inutile Se la usa Una persona che ha già Le rughe Deve usare una persona Per prevenirle Io che non le ho Non le ho Non le ho Detta Io che non le ho Me la Prevenisco Prevengo Non lo so Vabbè E Insomma Metto Questa Per prevenire Le rughe Però non devi dire Alla mamma Se no me la frega Cioè me frega Tutte le mie robe Con la pazza Noi già parliamo Fanno proprio A ruba Queste creme Accidenti Letteralmente Vabbè Senti Buonanotte Vai Vai piano Ok Buonanotte Buonanotte